A tutti voi buonasera dall'ATG Max, in apertura la cronaca voleva ucciderla per poi mangiarne i piedi. L'intenzione emerge dalla perizia psichiatrica effettuata su Luca Michelucci, il giovane 23 anni che lo scorso 15 novembre tentò di uccidere una donna mentre faceva jogging in Pineta. Il processo è stato sospeso. E' accusato di tentato omicidio Luca Michelucci, il 23enne che lo scorso 15 novembre tentò di uccidere con 10 coltellate una donna a Pineto mentre effettuava esercizi di riscaldamento in Pineta. Il processo però è stato sospeso. Secondo la perizia psichiatrica effettuata da Sabatino Trotta, il giovane pinetese incapace di intendere di volere e socialmente pericoloso. Nella relazione medica stilata in carcere è stato definito un soggetto schizofrenico con dei rilievi di cannibalismo e necrofilia. Subito dopo essere stato arrestato, poche ore dopo l'aggressione, confessò di voler uccidere la donna per poi poterne mangiare i piedi. Il legale difensore di Michelucci ha chiesto la revoca della misura cautelare in carcere e il ricovero in una struttura psichiatrica protetta individuata in accordo con il perito in quella di Castiglione delle Stiviere nel Mantovano. Il GIP si è riservato di decidere. Michelucci sarà sottoposto periodicamente a perizia per stabilire se e quando in futuro poter eventualmente sostenere un processo. Sono stati di nuovo interrogati due dei tre militari indagati per lo stupro della studentessa ventenne avvenuto la scorsa settimana fuori da una discoteca di Pizzoli. I giovani sospettati fin dalla prima ora, secondo il sostituto procuratore, sarebbero coinvolti con ruoli diversi nella violenza che ha avuto conseguenze gravissime sulla studentessa sottoposta ad un intervento chirurgico all'ospedale San Salvatore. I due militari, distanza al 33esimo reggimento artiglieria Acqui, hanno ribadito la loro estranetà ai fatti ma le loro deposizioni sono apparse contraddittorie. La posizione più grave appare quella del giovane militare ventunenne originario della provincia di Avellino bloccato con la camicia e una mano sporca di sangue dal gestore del locale dal buttafuori subito dopo la violenza. Intanto i primi accertamenti del RIS hanno confermato che sono della studentessa sangue e tracce biologiche trovate su camicia, mano e braccialetto da polso del maggiore sospettato. Il legale conferma le prime confidenze che la studentessa di Tivoli ha fatto alla madre. Ho capito che potevo morire, ha detto, quelli mi volevano uccidere. Ed è stato invece convalidato il fermo del marocchino 29enne accusato di aver stuprato nella notte di lunedì scorso una studentessa 17enne di Nereto. Il giudice ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. Nel corso dell'interrogatorio al giovane è stata contestata la responsabilità anche di un altro caso di violenza sessuale nei confronti della stessa minorenne consumato nello scorso mese di dicembre. È costata 1.200.000 euro l'emergenza maltempo al comune di Pescara, un'emergenza mal gestita secondo il gruppo consigliare del PD che contesta anche la cifra a spesa. Il gruppo consigliare del PD di Pescara fa un resoconto dell'emergenza neve. Come è stata gestita, quali conseguenze e quali danni? Che cosa dire? Vabbè i danni sono sotto gli occhi di tutti. Le pinette di Pescara, la pinetta Nord di Santa Filomena, la pinetta d'Annunziana completamente distrutte, i pini secolari di Via del Santuario completamente distrutti. La gestione è stata una gestione disastrosa da parte dell'amministrazione che ben sapendo di quello che doveva accadere almeno dieci giorni prima era stata avvisata, ha messo in campo un piano neve che di fatto non esiste. Cioè è stata una disorganizzazione alquanto imbarazzante da parte dell'amministrazione. Nonostante l'ottimo lavoro che i volontari, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco hanno fatto sulla città. Nella città ancora non c'è spazio per le macchine, i parcheggi non si trovano, ci sono cumuli di neve. Anche in questo caso è stato fatto abbastanza o si poteva fare meglio? Non è stato fatto assolutamente nulla perché i parcheggi più importanti della città sono ancora stracolmi di neve e diciamo in questo caso nevica sul nevicato, alcune tonnellate di neve che stanno togliendo l'area di risulta lo stanno portando in uno dei parcheggi strategici della città che è quello del parcheggio Cardora a nord della città. Cosa si potrebbe fare adesso per cercare di riprendere la viabilità e poi quali sono a livello economico i danni? I danni noi come gruppo, il gruppo sicuramente sta facendo una stima ma chiede la conto all'amministrazione di quelli che sono i reali danni e le spese fatte dall'amministrazione perché a noi 1.200.000 euro che oggi l'amministrazione dice di aver speso per quell'emergenza neve, questo calcolo non ci quadra. Per migliorare la viabilità senz'altro bisogna riportare i cittadini sui marciapiedi e quindi bisogna liberare i marciapiedi dalla neve e dal ghiaccio. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il Tribunale del Riesame ha dissequestrato i beni della famiglia Granatiero sottoposti a sequestro preventivo a settembre a Pescara su disposizione del GIP del Tribunale Pescarese. Il sequestro, eseguito da Polizia e Guardia di Finanza, aveva riguardato beni immobili e conti correnti per oltre 20 milioni di euro, tra cui alcuni noti e frequentatissimi locali del centro di Pescara. Il reato contestato era quello di riciclaggio. Ammonta a poco più di 4 milioni di euro il finanziamento che la provincia di Chieti ha ottenuto dalla Regione per l'adeguamento sismico delle scuole dopo il terremoto del 2009. Due i plessi scolastici sui quali si interverrà l'Istituto Tecnico Industriale di Savoia di Chieti e l'Istituto Magistrale di Titta di Lanciano. La provincia di Chieti ha ottenuto dalla Regione Abruzzo un finanziamento di 4 milioni e 134 mila euro per i lavori di adeguamento sismico nelle scuole dopo il terremoto del 6 aprile del 2009. Con tale somma, secondo quanto reso noto dall'ente, si interverrà in particolare su due complessi scolastici l'Istituto Tecnico Industriale Luigi di Savoia di Chieti e l'Istituto Magistrale di Titta di Lanciano. Sul primo si interverrà con una serie di lavori a livello strutturale. Nel caso di Lanciano si procederà all'ampliamento dell'edificio principale costruendo un'ala nuova che ospiterà una decina di aule. Nel frattempo, finanziati con un mutuo di 1 milione e 700 mila euro, sono cominciati lavori di manutenzione straordinaria messa a norma adeguamento e ampliamento in numerosi edifici scolastici di proprietà provinciale. Siamo soddisfatti della risposta che arriva dalla Regione, ha detto il Presidente della provincia Enrico Di Giuseppe Antonio, perché questa amministrazione ha puntato sull'edilizia scolastica e sulla sicurezza degli edifici in particolare, aumentando ulteriormente il livello di attenzione in seguito al terremoto di tre anni fa. Sulla sicurezza delle strade e delle scuole si è scommesso fin dall'inizio del mandato. Ulteriori fondi sono stati chiesti dalla provincia per l'Istituto d'Arte, il Liceo Classico, il Convitto Nazionale, il Liceo Scientifico e la Palestra dell'ITCG Galliani di Chieti. All'interno del carcere San Donato nasce il SOL, lo sportello di orientamento al lavoro per il reinserimento dei detenuti. L'iniziativa è stata presentata questa mattina. Favorire il reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro. Con questo obiettivo all'interno del carcere San Donato di Pescara è nato SOL, sportello di orientamento al lavoro. Lo sportello nasce dopo il protocollo d'intesa siglato lo scorso dicembre dall'amministrazione provinciale, il PRAP, la Casa Circondariale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. L'iniziativa è stata presentata dall'assessore provinciale alle politiche sociali Antonio Martorella. Noi con questo sportello intendiamo fornire i servizi che facciamo istituzionalmente nei nostri centri per l'impiego di Pescara, Penne e Scafa all'interno della Casa Circondariale. E si dipaneranno su due livelli. Il primo amministrativo per il quale l'ospite della Casa Circondariale potrà iscriversi al centro per l'impiego, rilasciare dichiarazioni di disponibilità al lavoro e tutte quelle pratiche amministrativo-burocratiche. E il secondo invece più profilato, più personalizzato, di secondo livello come si usa dire, di orientamento al lavoro per il quale facciamo all'utente il bilancio di competenze. Magari gli suggeriamo come scrivere un curriculum, come affrontare un colloquio di lavoro. Insomma, tentiamo di fornirgli la cassetta degli attrezzi per poi inserirsi nel mercato del lavoro una volta fuori da qui. 30 caldaie, oltre a tubature in rame per il gas e grondai per l'acqua piovana, sono state rubate in una palazzina in costruzione a Città Sant'Angelo. Del furto si sono accorti gli operai questa mattina. Il valore del bottino è di circa 40 mila euro. Per entrare nel cantiere che raggruppa più palazzini, i ladri hanno forzato una recinzione laterale. Un osservatorio per Fosso Marino. L'iniziativa è di progetto per Vasto, MPA e Futuro e Libertà. L'intenzione è quella di creare un organismo di controllo e monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività per evitare di compromettere la prossima stagione balneare. Per risolvere la grave situazione di Fosso Marino, diventata vera emergenza per Vasto, Progetto per Vasto, Futuro e Libertà e il Movimento per le Autonomie hanno deciso di aprire un osservatorio per Fosso Marino, al quale chiedono di aderire ad operatori turistici e tecnici, un organismo di controllo e monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività. Una conferenza stampa per presentare un organismo che verrà formato, inizialmente già è stato formato, verrà implementato nei prossimi giorni, che è quello dell'osservatorio per Fosso Marino. Noi abbiamo convenuto essere necessario formare questo organismo per seguire, avremmo sperato i lavori, ma per seguire le attività burocratiche e amministrative da cui dovrebbero scaturire dei lavori concreti per risolvere un problema che l'anno scorso è stata emergenza. Le grandi contraddizioni che sono state evidenziate nei documenti che abbiamo presentato sono quelle proprie di chi non sa come dover effettivamente operare per dar soluzioni. E poi il balletto delle cifre, si è detto addirittura che sarebbero stati disponibili 10 milioni di euro per gli interventi, poi sono stati ridotti a 1 e 2, poi a 900, adesso l'intervento è di 540 mila euro. E non si capisce poi neanche dove vengono fatti questi interventi. Si pensi, a proposito della bandiera blu della FEE, che nella richiesta che è stata inoltrata dal Comune di Vasto alla FEE per l'assegnazione della bandiera blu per l'anno 2012, si chiede cortesemente alla FEE di escludere dalla bandiera blu un tratto di costa 50 metri sud e 50 metri nord di Fosso Marino, come se il problema fosse quello di 100 metri lineari a confronto di un'intera spiaggia e di un'intera città. Fosso Marino è comunque una questione che ha i nostri punti chiave dell'agenda politica di futuro e libertà. È una vicenda in cui crediamo innanzitutto per dare una risposta a quei tanti imprenditori che hanno investito sul litorale di Vasto, ma anche per dare una risposta a quei tanti turisti che si sono fortemente lamentati nel corso specialmente dell'ultima stagione balneare e soprattutto per dare una risposta a tutti i cittadini, anche in seguito a quelle che sono le polemiche scaturite in seguito alla bandiera blu della FEE. Abbiamo già contattato quelli che sono i nostri eletti ai vertici regionali e nazionali, mi riferisco ai nostri consiglieri regionali, anche al nostro parlamentare di riferimento, l'onorevole Toto, che ha dato la piena disponibilità a darci una mano o un sostegno, se vogliamo, romano per la risoluzione dell'annoso problema di Fosso Marino. E siamo alla pagina sportiva per il calcio, dopo 18 giorni è di nuovo vigilia per il Pescara, che domani sarà di scena sul terreno dell'Albinoleffe, fuori ancora in signe. Finalmente vigilia col Pescara, che dopo un'attesa lunga a 18 giorni, torna domani in campo nell'obiettivo di riportarsi subito in vetta, sfruttando in pieno i due recuperi. Nella lista dei convocati per la trasferta di Bergamo contro l'Albinoleffe c'è Nilsen, ma mancano Brosco, Bocchetti, Catenari, Perrotte ed Insigne. Si profila la conferma degli stessi undici che vinsero a Crotone, consegnando il primato al Pescara. Il danese infatti potrebbe avere la meglio su Cone in mediana, mentre Soddimo potrebbe essere riproposto il luogo di Caprari nel tridente. Le indicazioni della rifinitura disputata oggi sul campo di Zanni sembrano avvalorare questa tesi. La curiosità è tanta, con i timori che la settimana travagliata nella logistica degli allenamenti possa avere riflessi negativi nella prestazione dei Biancoazzurri, con un tour de force decisivo per il futuro. L'Albinoleffe, il primo avversario, non vive un momento felice e dunque darà il massimo per tirare lo sgambetto al Delfino. Per il match in Lombardia è stato designato l'arbitro Tommasi, lo stesso del criticatissimo Torino-Pescara. In molti sono convinti comunque che il sogno possa continuare e senza intoppi, col Pescara che nel 2012 è stato sconfitto sinora solo dalla neve. Il nuovo social network sportivo Wembleg è il secondo sponsor dei rossoneri. Domenica ha la sfida con il Frosinone e con il Biondi quasi libero dalla neve. Virtus Lanciano chiama, Wembleg risponde. È stato presentato stamattina il second best sponsor del Lanciano. Guglielmo Maio e Michele Lascala di G-Sport hanno infatti annunciato quella che è stata definita una piccola rivoluzione culturale. È nato il primo social network interamente dedicato al calcio e totalmente made in Italy, che lega il proprio marchio giovane e innovativo proprio alla Virtus Lanciano, condividendone spirito, obiettivi e apertura verso il futuro. Alla presentazione delle maglie con il nuovo secondo sponsor hanno partecipato Antonio Aquilanti, Vincenzo Aridità, Giorgio Capece, Vincenzo Sarno e Manuel Turchi. Nei prossimi giorni tutti i calciatori della Rosa della Virtus diventeranno utenti Wembleg, con la possibilità dunque di diventare amici di tutti coloro che si iscriveranno e ne faranno richiesta. Speriamo che sia una partnership costruttiva, verso un qualcosa che è nuovo, totalmente nuovo, sia Wembleg sia una scuola di calcio che veicola questo marchio. Quindi speriamo che il social network, che il Lanciano possa servire a popolare il prima possibile questo social network, che penso sia molto divertente, soprattutto per i tifosi e per le scuole di calcio. Noi siamo ovviamente fieri e onorati che abbiano scelto la Virtus Lanciano come lancio del proprio brand. Mi auguro che quindi sia Wembleg per il proprio settore abbia un grosso risconto e mi auguro pure che la Virtus Lanciano ovviamente porti in alto il nome di Wembleg, ma soprattutto il nome della Virtus Lanciano. Ma nel Turchi già sei iscritto? No, lo farò al più presto, penso questa sera. Comunque è un social network proprio per il mondo del calcio, simile a Facebook, segno comunque di una Virtus aperta a tutte le esperienze. Sì, diciamo che è un Facebook del calcio. È molto interessante perché ogni giocatore, partire dalla prima categoria, ha la più alta serie, può mettere i suoi gol, i suoi video, le sue foto. Comunicare con i tifosi. Comunicare con i tifosi, comunicare con gli altri giocatori che si sono persi di vista. È una cosa molto interessante e bella. Manuel Turchi allora aspetta amicizie? Ma sì, 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 gli uomini posso accettare. Intanto ecco i biondi con gli ultra spalatori ancora al lavoro, da segnalare qualche intoppo con la necessità per domani di rinforzi per liberare i cumuli di neve. Domenica arriva il Frosinone e la speranza è quella dei tre punti. Il team anglo-malese Caterham ha risolto il contratto con il pilota abruzzese Jarno Trulli con effetto immediato al suo posto. Ha ingaggiato il russo Petrov che affiancherà il finlandese Kovalainen. Nella stagione 2012 nessun italiano sarà quindi al via del campionato del mondo di Formula 1. È la prima volta che accade dal 1970. Era questa l'ultima notizia. Prima dei saluti vi ricordo che torna questa sera l'appuntamento con Amuso Duro a partire dalle ore 20 e 30. Grazie per essere rimasti con noi e vi vediamo domani.